Oggi voglio dedicare questo video a tutti i tarantini fuorisede per non farvi sentire lontani dalla nostra città. Lo sapevate che Taranto è tra le dieci città più antiche d'Italia? Per esattezza non ho posto, ma andiamo alla scoperta della città vecchia. Stiamo per attraversare il ponte Girevole ed entrare così a Mar Piccolo dove vi è la città vecchia, l'unica colonia spartana della Magna Grecia. Benvenuti nel Mar Piccolo. Amici tarantini fuorisede, queste sono le nostre cozze, il nostro oro di Taranto. Perché qui a Mar Piccolo dovete sapere che ci sono 34 citri di acqua dolce. E queste fonti di acqua dolce hanno un compito ben preciso. Migliorano l'ossigenazione del mare stesso e favoriscono la formazione del plankton, che è uno degli elementi principali per nutrire il nostro oro nero. E dopo questa breve spiegazione ci vorrebbero due o tre cozze, un po' quello provalone e una bella birra a raffo. E dal lungomare di Taranto è tutto. Amici fuorisede, io vi devo salutare perché lo scoglio si sta per avvicinare, tre poco ma fa danno. Un bacione a tutti e buon rientro a Taranto.